Ovviamente mi chiedo di cominciare a felicità al Pueblo di Arruba con il rebaio delle imprese di Ava e Corriente. Algo che sicuramente ho ricevuto con un'allegria di Torskina, una come questa. Mi sono contenta con il governo di finalizzazione di dialogo social. Non è tornato molto a cui la decisione di Web è stata fatta in giulio. La nostra corda è stata fatta in giulio di un comunicato di Web, che è stata fatta in giulio del 2012. Web è stata fatta in giulio di tarifo di Ava e è stata fatta in giulio della finalizzazione di un'allegria di Corriente Recipe 3, un'allegria di Ava di Sea Water Reverse Osmosis SWRO 2 e un'allegria di prezzi di combustibile. Sì c'è il motivo che abbiamo fatto un lunà passare che poteva di fare una tarifo. E ilra Europa èunnitivo che si è stata fatta in giulio di servizio di毒ate, un'ann Ник mantra, italiani di fatto, la loro capacità di riscaldare, Ovviamente qui è accade di più in giulio di sicure di una nuove spiegazione di abit하�kami. e non per ejecutare la decisione qui, sino che la demanda di dialogo social. E ora che nella nostra miera con il dialogo social, il suo risultato è che si torna un po' un po' di oggi a deprivare il popolo di un luna extra di rebajo, perché lamentablemente la web è stata clare e si è finita in giulio, e si è rebajo. Però il primo ministro non è stato chiaro, però il bottom line è che non è contento che è rebajo anche qui. Inoltre, il nostro voto è chiaramente il risultato di un visione e determinazione del gabinete di MEP nel passato, che ha avuto un'inversione di grandi occhi del web e con l'AWI, il risultato è che è rebajo anche. E poi sa che, non è felicità al poble di Aruba, non è felicità al ex governante che ha avuto un visione e determinazione che ha avuto un'inversione e il nostro felicità al poble di Aruba che ha avuto il lavoro anche.